Cambio orario e langette indietro di un'ora questa notte. Torna l'ora solare che resterà in vigore fino al prossimo 25 marzo. Le langette potranno essere spostate benissimo prima di andare a letto nel mattino successivo, ma il cambio orario avverrà ufficialmente alle ore 3, quando si ritornerà indietro di 60 minuti fino alle ore 2. L'orario notturno è stato scelto per ridurre al minimo disagi nella circolazione di treni e mezzi pubblici. Questo fine settimana si potrà quindi dormire un'ora in più e in generale guadagnare un'ora di luce al mattino. Di contro si perderà naturalmente un'ora di luce nel pomeriggio, dando la sensazione di giornate sempre più brevi nelle quali vedremo calare il buio, molto più in fretta man mano che avanzerà l'inverno. Prospettiva non particolarmente congeniale per buona parte della popolazione. In molti infatti attribuiscono al cambio orario disagi dovuti a stress, malumore, insonnia, stanchezza e pessimismo. I sintomi però non dovrebbero durare più di qualche settimana il tempo necessario al corpo per abituarsi al nuovo ritmo biologico. Lo scopo del passaggio da ora legale a ora solare e viceversa risiede nel risparmio energetico, attraverso l'utilizzo di minore corrente elettrica dovuto all'ora di luce in più nel mattino. L'ora solare partita nell'ultima domenica di ottobre ci terrà compagnia dunque fino all'ultima domenica di marzo, quando ricominceremo a gustare calorose ore di luce anche nel tardo pomeriggio. L'ora solare partita nell'ultima domenica di ottobre ci terrà compagnia di ottobre ci terrà compagnia di ottobre ci terrà compagnia di ottobre ci terrà compagnia. Grazie.